Allora! Allora! i portoni che ha avuto a 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 Guarda qui, non fai gioco. 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 Sì, dovevamo giocare al seasonatico lo lasciavo là perché tutto lo smetteva di rimanere. 5-0-4 Sì, è un lavoro. Non so se è così. Sì, è un lavoro. 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 Sì.